Buongiorno, io sono Sipon, vengo dal Bangladesh. Sono arrivato in Italia nel 2017. Quando sono arrivato ho fatto un corso di ristorazione e poi adesso sto lavorando in un ristorante a Cunio. Devo partire dal Bangladesh perché avevo un problema in Bangladesh. Sono arrivato prima in Libia e poi sono arrivato con barca in Italia. Adesso sono arrivato prima a Sicilia e poi mi hanno trasferimento a Cunio e poi sono arrivato a Priero. Sono andato a scuola, ho imparato l'italiano un anno e poi dopo ho deciso di fare un corso e poi ho fatto un corso di ristorazione. Adesso sto lavorando sempre. Sono andato in commissione nel 2019 e poi mi hanno risultato negativo. devo aspettare due anni e mezzo ancora per fare di nuovo commissione al tribunale. nel 2024. Sono quasi quattro anni in Italia. Non ho ancora visto, ma devo aspettare cosa mi dicono loro. Sono a Priero da quattro anni e sto benissimo qui. Anche i miei amici sono cinque che abitano con me. Anche stanno lavorando in un campo nelle verdure. non hanno visto e devono aspettare come me. Adesso sto lavorando. Nel futuro volevo fare un'attività di ristorazione. Spero che mi danno il visto. E quindi io volevo fare un'attività in Italia. in Italia. agli attivi chiusi